Se li viene anche a cercare, i palloni è un'ala che si dice interpretare il ruolo in maniera moderna, cioè non è che sta fermo sull'auto, sulla linea di cose, anzi se li va a cercare in mezzo. In effetti lo si vede sempre in giro, in giro per il campo, secondo me a volte fa saltare anche qualche schema, perché è proprio sempre in giro, sempre in giro per il campo a cercarsi dei palloni, ma ce ne fossero di ali così. Degli un GPS e sapere dov'è, no? Cosa dice Alessandro? È vero, si vede proprio una differenza anche di testa, di atteggiamento, È molto appariscente, quindi già lo vedi, perché come abbiamo già detto sembra Nick Williams un po' in miniatura. E poi, essendo così funambolico, riesce ad essere imprevedibile, sia per gli avversari, ma immagino talvolta anche per i compagni di squadra. Quello che mi chiedo è se per caso, perché ho sentito, pare che ci sia la volontà di provarlo anche come centro. Non so se... Simone? Svelaci questa cosa in allenamento. Ti metti in difficoltà. Ti metti in difficoltà. Non ho assolutamente idea. Ma è un ala moderna, l'hai detto tu, in mezzo al campo, secondo me la sua posizione è l'ala. E poi un giocatore con quel talento, con quelle qualità, con quei cambi di passo, bisogna dargli la palla e lasciarlo fare. Dicevi che è uno step che noi, noi europei, non possiamo nemmeno sognarci. Ha il dono del teletrasporto, fa così ed è subito da un'altra parte. Non male come alla una gottina. Anche perché quando placca si fa sentire, quindi non è che, anche se è magari un po' più basso rispetto alla media, però fisicamente è impostato. Oh sì sì, l'abbiamo visto anche all'Einster, sì sì, è vero, ha fatto ottimi interventi. Altro straniero in campo era al 10, il nostro sudafricano. Lui probabilmente è incappato una giornata negativa, al piede. Al piede sicuramente questo, lo sappiamo, ci aveva abituato a ben altre statistiche, ben altre percentuali. Nello smistare il gioco, nella posizione, come l'hai visto? Ma fasi alterne, perché ad esempio ricordiamo la meta di Pavan, dove Nick Williams ha tenuto vivo un pallone molto difficile, non gli è arrivato con grossa qualità, poi invece ha alternato anche cose buone. Una partita forse non sui suoi standard, che sono solitamente alti, però ci sta un incidente di percorso. Comunque le qualità ci sono. C'è un altro straniero a dirla tutta, che però non ha giocato, costretto, se vogliamo, tra virgolette, a ruolo in panchina per la regola della federazione, ed è Tyson Kids. Simone, come vive lui questo momento di difficile impiego, gioco forza, se gioca Oliver, non gioca lui, come lo vedi uno che viene da un campionato importante, che ha sicuramente talento, che è sicuramente un ottimo giocatore? Tyson è un ottimo giocatore, è l'unica partita che sono partita dall'inizio, sono partito con lui, che è il suo soldo, è veramente un ottimo giocatore, ha qualità, ha visione di gioco, ha un ottimo passaggio. Come la vive? La vive da professionista, anche lui è un professionista, è venuto qua sapendo di questo e la vive al meglio. Non posso dirti come la vive personalmente, perché non c'è nessuno di noi nella sua testa, ma... Sì, anche perché è poco che è qua, poi immagino che la confidenza venga col tempo, giusto? Ah no, è vicino di caso, oggi gli ho cucinato gli spaghetti, era contentissimo, era felicissimo. No, no, è un ottimo ragazzo, è una persona anche intelligente, quindi penso che se sia venuto qua era consapevole di tutta questa situazione e vedremo in futuro. Gli auguro di giocare il più possibile, come auguro a tutti questo. Sì, sì, certo, anche sia di buon pro agli aironi. Aironi che adesso stanno, come tutte le altre formazioni, sono ferme fino a fine mese, perché si ricomincia il fine settimana del 28-29 di ottobre. Come viene gestita questa pausa da voi, dalla squadra, dal team tecnico? Adesso abbiamo una settimana di pausa. Fermi completamente per una settimana? Fermi completamente, ognuno ha dei lavori individuali, chi ha avuto gli infortuni come me lavorerà sugli infortuni, comunque è gestione personale e dopo la prossima settimana si inizia con i nazionali, si riprenderà a livello di scuro, ci sarà un lavoro di carico a livello fisico e più un lavoro di squadra assieme, perché adesso bisogna ricompattare anche i ragazzi che sono arrivati dal mondiale. Certo, però lavoro personale, insomma quindi dipende molto anche dalla vostra testa di professionisti, no? Continuare a stare sempre al top della forma, giusto? Sicuramente. Era così anche per te i tuoi tempi in cui non era così professionistico il rugby, Mario, nelle pause? Diciamo che le pause venivano molto lasciate a discrezione di ognuno. Non lo so, forse prima si faceva un pochino meno fatica a rimanere nei limiti anche durante le pause. Adesso si... Meno fatica, dici? Forse un po' meno fatica, essendo una cosa meno imposta la gente forse faceva un po' meno fatica. Questa qui è la mia visione. Però sicuramente anche adesso sono tutti ragazzi abituati, nati forse con il professionismo e non penso che per loro sia una grande costrizione quella di rimanere comunque in riga, rimanere comunque concentrati e in forma fisica nonostante le pause. Poi io volevo anche aggiungere una cosa, visto che siamo stati a Dublino con loro e questo gruppo è veramente un gruppo solido. Abbiamo avuto proprio il modo di testarlo, vederli insieme, sono tutti giovani, però si vede che... non voglio dire che siano prima amici, poi compagni in squadra, però secondo me siamo poco lontani. Si è visto proprio la voglia e il piacere di stare insieme. Questo penso che lo possa confermare anche Simone. No, no, fai bene a dire, siamo prima amici che compagni in squadra. Questa è la cosa che ci rende il lavoro, i momenti insieme, molto più piacevole, te lo confermo. Tornano i nazionali, amici, un bel gruppo, tutto quanto, tornano i nazionali quindi si aggregeranno loro, ma credo che se ne vadano i permit player già ora, giusto? Sì, sì, sono già andati. Sono già andati? Sono già partiti. Sono già ripartiti. Sì, 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 sì. Avevo, ma ero molto affezionato a Filippo Cazzola, viveva con me. Ah. E mancheranno perché erano parte di questo gruppo. Eh, infatti. Erano parte di questo gruppo. Immagino che da fin da st'estate, facendo un rapido elenco, chi c'è? Cazzola? C'era Cazzola. Riccardo Pavan. Riccardo Pavan. Giazzon. Mammana. Mammana, sì. Che è venuto, non ha avuto possibilità. Poi... Festucci era un altro permit player. Sì, Festucci. Che si è rotto subito. Sì. Cavolo, non me li ricordo perché erano talmente parte di questo gruppo che non notavi differenza. Sì, sì, sì. Tutto qua. Però ci abbiamo parlato ed è un'ottima esperienza perché ci sono quasi tutti ragazzi giovani. No, no, Ferrari è in forma definitiva qua. Sono tutti dei ragazzi giovani, è un'ottima esperienza perché li abbiamo fatto annusare che cos'è l'alto livello, cosa vuol dire star qua. Penso che porteranno anche questo bagaglio nelle proprie società e continueranno il campionato in previsione di un'ambizione futura più alta. Magari ricalcare le orme di Tommaso D'Apice che lo scorso anno era per mi player qui e quest'anno sono andato in Nuova Zelanda a fare i mondiali. La speranza e l'augurio per tutti è quello lì, no? Certamente. Un bel gruppo, quindi Mario, questa forse è una delle cose che più è simile tra il tuo gruppo e quello attuale, no? Credo che anche voi a livello di amicizia sia stata una bella avventura o no? Assolutamente. Questa è la cosa che ti rimane. Cambiano i livelli, cambiano le... Direi che il gruppo, l'affiettamento del gruppo fa dare quel qualcosa in più che serve ad una squadra. Porto ad esempio, l'ho già probabilmente detto ancora, l'anno in cui abbiamo vinto lo Scudetto molto probabilmente non eravamo una squadra più forte, ma eravamo una squadra più unita e questo ha fatto sì che soperissimo a quel gap tecnico che c'era magari con le altre squadre, con il Benettoni in particolare, che ci ha fatto fare quel passettino in più per poterli battere. Vedendo i ragazzi, vedendo gli aeroni adesso, andrò forse controcorrente, ma penso che non faranno fatica i nazionali a rientrare e ad inserirsi in questo gruppo. Perché l'aria che si respira all'interno, nonostante l'abbia vissuta dall'esterno solamente, non faranno assolutamente fatica di inserirsi in questo gruppo. Un po' perché sono persone con esperienze che dal punto di vista caratteriale non hanno nessun problema di inserirsi in un gruppo, nonostante vengano dall'esterno e si inseriscono in un gruppo praticamente nuovo, non faranno assolutamente fatica. Questo gruppo li accoglierà e non faranno nessuna fatica di inserirsi. Certo, anche perché alcuni c'erano già l'anno scorso, i nuovi, nuovi, nuovissimi sono Andrea Masi, credo, c'è stato Orchera quest'anno, e poi aiutatemi se c'è qualcun altro che non mi ricordo, ma... Andrea Masi, Luciano Orchera, no? Basta. E gli altri poi ce li riconosciate già dall'anno scorso, no? Bene, allora, sarà una passeggiata a inserire anche loro. Noi vi ringraziamo... Masi lo conosce, no? Come ambiente. Masi è stato già qua, lo stesso Mario se lo ricorderà, immagino. Lo aiuterà Mario. Ce lo ricordiamo tutti. Reinserisse, ma anche lui non avrà nessun problema. Sia come giocatore, perché è un vero professionista, sia come persona, perché nonostante all'inizio possa sembrare un po' chiuso, caratterialmente un personaggio insostituibile anche quello. È un bel soggetto, bene, meglio così. Grazie a tutti, grazie Mario che è stato con noi. Grazie a voi. Grazie Simone. Bocca al lupo per tutto. Grazie Alessandro. Noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante ci sia la pausa. Grazie di averci seguito e buona serata.